È stata una festa privata a causa della Spendia Review, quella organizzata dalla Polizia di Piacenza in occasione del 161esimo anniversario della sua fondazione. Come di consueto l'appuntamento è servito anche a tracciare un bilancio dell'attività svolta negli ultimi 12 mesi. Nel periodo tal 1 maggio 2012 al 30 aprile 2013 i reati sono calati, 2023 contro i 2230 dell'anno precedente. Da segnalare la riduzione dei furti in genere da 1184 a 1154, ma l'aumento di quelli in abitazione, 293 nell'ultimo anno, rispetto ai 219 di quello prima. Aumentano anche le rapine, 32 casi in più nel 2013. Le risorse sono poche, gli uomini sono diminuiti, l'esigenza di sicurezza aumenta. Sì, gli arresti in fraganza sono aumentati perché il personale della volante ha avuto quella capacità di cogliere quelle tracce relative alla commissione di un reato e quindi è intervenuto anche grazie alla collaborazione dei cittadini. Per quanto riguarda il numero dei furti non è stato, come posso dire, spropositato da creare un certo allarme sotto il profilo delle dinamiche criminali. Però c'è stato e quindi noi altri cercheremo di orientare la nostra attività nell'ambito del piano coordinato di controllo del territorio in maniera sempre più mirata per anticipare eventuali iniziative di reati predatori. Durante la cerimonia sono stati premiati i collodi di ispettore capo Vincenzo Scaletti, di ispettore Lorenzo Riezzo e l'assistente Stefano Pezza per i meriti di servizio, assegnata la medaglia di commiato in argento a sostituto commissario in quescenza Agnello Pepe. E a proposito dei sei agenti arrestati il mese scorso, il questore ha parlato di un clima compatto in attesa degli sviluppi dalla magistratura. Il clima è sicuramente un clima di compattezza, è successo un fatto, è successo un episodio, come possiamo definire, di caduta e il quale episodio però non ha prodotto ripercussione su quello che è la motivazione, il senso del servizio del personale tutto. La magistratura arriverà a una decisione e quando ci sarà la decisione si stabiliranno poi anche le gradazioni di responsabilità dei sei in ordine a quello che è stato loro contestato.